Emergenza morbillo negli Stati Uniti. Secondo i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, i casi confermati di morbillo in tutto il paese sono 695, il numero più alto registrato dal 2000 ad oggi. 22 gli stati coinvolti nell'epidemia. Il focolai ha colpito soprattutto gli stati di New York e Washington. In alcuni quartieri è stata dichiarata l'emergenza sanitaria, con controlli e vaccinazioni obbligatorie anche nelle scuole. Secondo i dati dell'Unicef, gli Stati Uniti sono il paese sviluppato con il maggior numero di bambini non vaccinate contro il morbillo. Il segretario della Sanità Alex Hazar ha annunciato l'avvio di un'ampia campagna di sensibilizzazione a favore del vaccino antimorbillo. Il morbillo è in piena recrudescenza in tutto il mondo, con centinaia di casi segnalati nelle ultime settimane anche in Ucraina e Israele.